Bene ragazzi, qui è Gabbo di squadra e ben ritrovati nel mio canale, oggi sono qui signore e signori in un nuovissimo episodio su episodio, cazzo, siamo in un video sul mio telefono siamo qui ragazzi come sempre sempre, adesso aspetto l'orda di commenti dove tutti mi diranno Gabbo perché copi Stepney Gabbo perché copi Dexter Gabbo perché copi Dexter signori, nessuno copia nessuno io non mi chiamo Dexter, io non mi chiamo Stepney io non mi chiamo Dread, io non mi chiamo Frox siamo tutti diversi ovviamente ri bonjour Gabbo di squadra, grazie sono qui oggi signori in un nuovo video su Akinator mi proverò, come vedete dal titolo, a cercare i membri della mia famiglia sarà veramente un po' particolare perché non so se c'è qualcuno che abbia mai messo i miei genitori però proviamo ragazzi, cominciamo allora, allora il suo personaggio di nazionalità italiana adesso vi dico, cercherò mia sorella iniziamo dai più semplici mia sorella, allora il suo personaggio è stato scoperto grazie a Youtube sì, assolutamente, il suo persiaggio di Roma no, è mai stato a Los Angeles no, il suo personaggio non è mai stato a Los Angeles il suo personaggio che fa il mondo dei videogiochi no, il suo personaggio di dos abiti maschili no, il suo personaggio di un cellulare sì, ovvio, il mio Milano no di Firenze no e del sud Italia no, viene da Genova no, il suo personaggio di Milano sì, ha il nome che inizia per alle no, il suo personaggio di Genova di Bologna no, ha un fratello famoso sì, aia, abita a Modena attenzione non è una bambina mia sorella è una ragazzina, non è una bambina attenzione ragazzi Beatrice Gaiba Beatrice Gaiba Beatrice Gaiba Beatrice Gaiba Beatrice Gaiba Beatrice Gaiba qualcuno l'ha messa e qualcuno l'ha anche dovinata vediamo quante volte 79 volte incredibile Pazzesco incominciamo a cercare un personaggio veramente veramente scomodo nel mondo di YouTube che è un grandissimo YouTuber uno YouTuber pazzesco ma veramente fantastico uno YouTuber che è un qualcosa di spropositatamente grande uno YouTuber che ha un fascino un feeling una storia un qualcosa di spettacolare dentro di sé una meravigliosità una super grandissimo Gabo di Square signori grazie 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 mille ovviamente c'era dell'ignoria nell'ironia ragazzi nelle mie parole non mi reputo quello che ho detto non mi reputo proprio signori era giusto per fare un po' lo scemo allora cerchiamo il mio babbo il suo personaggio italiano sì il suo personaggio è più di 35 anni sì il suo personaggio è una bella moglie sì ha giocato in serie A no è un cantante no il suo personaggio è famoso no il suo personaggio è stato innamorato di sua madre sì il suo personaggio è ancora vivo sì oddio trova mio padre cioè tuo padre viene scritto scommettete se adesso ma chi ne è d'or dai non ha più di 60 anni si trucca in modo pesante no hai mai avuto una relazione extra coniugale papà mi dividere qualcosa il suo personaggio è una moto no suonevolino no piace parlare di sé no è introverso no il suo personaggio è una peglia a caschetto no va a scuola no vuole avere figli non penso è un sedutore papà mi di qualcosa papà l'ha messo al mondo sì mio padre ma non il papà di Gabo di Squared suo padre best daddy grandissimo e comunque sia mio papà va bene va bene va bene il suo personaggio è padre sì il suo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube mettiamo di sì ha a che fare con i telefoni no ha a che fare con Gesù e il suo personaggio ha a che fare con Gesù ma no neanche con Fabi Jay fatalità è dopo Gesù vabbè il suo personaggio è totalmente più di 50 anni sì il suo personaggio è reale sì certo viene in Sicilia no è grasso? mio papà non è grasso anche se mi dice sempre che lo sono il suo personaggio è che fa raccomando dello sport no ha sempre i capelli lunghi no è mai apparsi in televisione? mio padre sì è apparsi in televisione ma mettiamo di no perché a Chineta non lo sa è un ciclista? no è del nord Italia? sì famoso perché dice cose stupide? no ha figli? sì è di Torino? no sì vabbè ciao Aikinator papà di Giastron ma perché? il papà di Giastron il papà dello youtuber Giastron no non è lui continuare sì vediamo proviamo a cercare mia madre raga per mio padre non c'è proprio non c'è proprio cazzo è scoperto grazie a YouTube diciamo che sì proviamo a dire di sì dai è scoperto grazie a YouTube il suo personaggio è di Roma no non è mai stata di Los Angeles mia madre probabilmente dai mettiamo così indossa abiti maschili no a meno che anche lui anche lei non abbia una seconda vita mamma hai capelli? sì hai capelli è fidanzato? no è sposata guarda di Nobichannel no il suo personaggio è femmina sì ha più di vent'anni? sì ha figli? sì ha dei gran figli ragazzi ha più di 50 anni? sì lavoro con i Pantellas? no il suo personaggio ha una figlia attenzione ragazzi sì ha una figlia ha una figlia signori ti muovi? gentilmente grazie vediamo sì sua madre dai tua madre ma perché? bravo mi hai battuto il suo personaggio è di nazionalità italiana? sì grazie a youtube sì di Roma no qua andiamo su di Temore mio dolce ma è stata Los Angeles no ma ti ci porterò ha a che fare con Moderna i videogiochi? probabilmente da sabbidi maschili? no hai capelli? sì hai capelli della mia zizza il suo personaggio è fidanzato? sì il suo personaggio di Firenze? no è biondo? no ha a che fare con Dexter? no vive in Italia? sì abita a Modena? sì sì è adulto? sì non ha mai giocato a Minecraft o meno che per i lunghi? sì e andiamo verso più su verso le stelle signori Sicilia no non è un romano non è romano attenzione Akinator fammi vedere Silvia Insogna è grande andiamo ha indovinato anche lei vediamo quante volte 1107 amore sei quasi famosa grandissima voglio vedere se ci sono robbie matte grazie da italiana sì scoperta grazie a YouTube sì non è di Roma a che fare con il mondo degli videogiochi probabilmente indossare i bitti maschili sì e del sud Italia sì sì sono sia matte che robbie sono del sud Italia quindi tanta roba a parte dei French no il suo personaggio fa parte della giuria di Italia Sgottola no a che fare con Bari no ha mai fatto una challenge sì vediamo oh andere muro ma chi cazzo è attenzione il suo personaggio vive in Emilia Romagna sì raga muscoloso no robbie matte no il suo personaggio lavora da solo no il suo personaggio fa parte di un gruppo di soli ragazzi sì dai mettiamo di sì dai raga no Akinator Matteo Ticca quello dei Relati è un altro Matteo no oh continuare sì ah ti sei arreso eh mio fratello anima come non è nella lista mi dispiace bravo mi hai battuto su Kakinator ah 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 come ultima cosa voglio proprio vedere se mi viene raga la sorella di Frax vediamo se sei il suo personaggio di inizialità italiana sì sì grazie a YouTube è di Roma sì sta insieme a Violetta no non è Dexter non è grasso è femmina sì che fare con tante donne ma non penso proprio ha un fratello una sorella sì ha un fratello famoso sì ha un fratello sì vediamo se è Camilla dai Golden Mary no non è lui non è lui continuare sì sì grazie a YouTube il suo personaggio è una porno star no assolutamente vediamo se mi trova Camilla vai Camilla Benedetta Piccar fidanzata di Jazz Zoda cioè mi trova la Benedetta non mi trova Camilla oh sto pensando a no no ti ho detto a Kineator sì continuo ragazzi secondo me proprio a Kineator oggi l'ho messa proprio al culo oh finalmente la sorella di Frax grandissima Camilla grande cinque volte è stato indovinato quindi ragazzi cinque volte è stato indovinato comunque signori commentate qua sotto scrivendomi quale altro personaggio dovrei cercare su Kineator nel prossimo episodio vi invito sempre a lasciare un mi piace e un commento io vi saluto vi ringrazio qui da Gabby di Square è tutto dalla raga di ragazzi Grazie a tutti.